Le scuole di Avellino sono pronte e non da oggi. Dirigenti e insegnanti stanno lavorando praticamente ad agosto per consentire l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 che, cominciato il 24 settembre, è stato costretto a bloccarsi per quanto riguarda le lezioni in presenza a metà ottobre. Da allora le classi sono vuote. Dopo circa tre mesi si dovrebbe tornare finalmente a scuola in campagna da lunedì per una ripresa a scaglioni. La preside i docenti dell'Istituto Tecnico Economico, Luigi Amabile di Avellino, confermano quanto sia importante recuperare il rapporto umano tra studenti e insegnanti. Vedo da parte di tutti, da parte in primis dei nostri ragazzi ma anche dei più piccoli, di quelli che si approcceranno nei prossimi anni alla secondaria, proprio la voglia di tornare a scuola, la voglia di venire dal vivo, di ritornare, la voglia di vivere, per collegarci a quello che dicevamo precedentemente. Quindi veramente mi auguro che ci sia la possibilità di restituire, io dico, l'adolescenza negata ma anche l'infanzia negata a generazioni che sono più svantaggiate rispetto a noi. Ci manca proprio il rapporto con i ragazzi e credo che anche a loro manchi proprio questo, sia con i compagni ma anche con i docenti. Ci auguriamo veramente con tutte le nostre forze di poter rientrare anche piano piano, ma di poter ricominciare. I ragazzi ci chiedono spesso, professor ma quando torniamo a scuola? Ed è una domanda che fanno quasi tutti i giorni. Grazie a te. Veramente a volte vorremmo dire qualcosa di diverso, nel senso di dire domani, ed è la speranza che ci accompagna sempre, però insomma speriamo speriamo quanto prima.